Con Reverso oggi parliamo di branding e product design, soprattutto perché con un progetto particolare, mi riferisco a Libro Tiglia, siete tornati vincitori al concorso Red Dot da Berlino. Quali sono le caratteristiche di questo progetto che hanno fatto sì che si meritasse non solo questo premio ma anche altri importantissimi premi nazionali e internazionali? Sicuramente le idee semplici sono quelle che poi risultano più apprezzate dal pubblico. Libro Tiglia è un progetto che è nato da un forte desiderio interno di riuscire a coniugare il piacere della lettura e l'esperienza dell'assaggio nel settore enologico. Poter leggere un racconto sfogliando direttamente l'etichetta sulla bottiglia è un'esperienza un po' particolare. Per di più il genere letterario del racconto è stato scelto apposta per esaltare al massimo le qualità organolettiche del vino. Chiaramente questo tipo di operazione è stata fatta in accordo con la cantina Matteo Correggia con la quale sono stati identificati tre vini che potevano rispondere esattamente a questo brief e in questo modo è nata Libro Tiglia. Un progetto sicuramente interessante che avrà anche una declinazione commerciale. Di cosa si è occupata Reverse in questo senso e quali canali distributivi su cui può approcciare o forse è già approcciato il progetto? A parte i canali quelli più tradizionali l'idea forte fin dall'inizio è stata quella di focalizzarsi sull'e-commerce perché per un prodotto come questo è sicuramente un canale molto interessante. Su questo aspetto l'agenzia ha lavorato assieme alla cantina ed è stato realizzato un sito dedicato dove appunto c'è la possibilità di reperire tutte le informazioni riguardo al prodotto e riguardo agli autori che hanno aderito a questa iniziativa per poi arrivare nella sezione quella dedicata appunto all'e-shop per acquistare il prodotto. Allarghiamo lo sguardo ora Reverse e siamo in chiusura d'anno. Vediamo come è andato il 2016. Quali sono le principali attività, i principali progetti che vi hanno coinvolto e impegnato quest'anno e di cui siete particolarmente fieri? Sicuramente è stato un anno interessante. Abbiamo lavorato su progetti che ci hanno impegnato in maniera particolare, soprattutto progetti che rispecchiano un po' quello che è la nostra anima. Abbiamo lavorato comunque su progetti in particolare nel mondo food di innovazione di cui però non posso svelare troppe informazioni perché li troverete poi sul mercato il prossimo anno. Però saranno comunque progetti caratterizzati da aspetti innovativi proprio anche a livello di prodotto stesso e noi abbiamo poi lavorato dalla parte invece di design. Per quanto riguarda invece i progetti che sono stati conclusi per noi lo scorso anno ma di cui abbiamo visto i risultati quest'anno, potrei citare sempre in ambito food degli esempi nel mondo dei gelati, tra cui Cucciolone per il quale abbiamo sviluppato il nuovo pack design e per il quale abbiamo anche sviluppato e scritto le nuove barzellette così come le varie illustrazioni per le barzellette. Un altro esempio importante potrebbe essere Viennetta, rappresentato da Viennetta per il quale abbiamo sviluppato il design dell'intera range. Quali trend del futuro del branding, del product design o comunque le tendenze principali da cavalcare? In questo periodo storico le aziende stanno cavalcando un trend comunicativo che è quello di veicolare il concetto di artigianalità anche per i prodotti mass market. Questo sicuramente ha dato la possibilità a molti creativi, a molti grafici, a molte agenzie di utilizzare anche dei linguaggi che fino a un po' di tempo fa erano assolutamente vietati, incomprensibili magari per il grande pubblico. La sfida ovviamente è quello di riuscire a evolvere in maniera propositiva per cercare di creare dei nuovi codici che possono a loro volta innovare e magari dare nuovo respiro a un mercato che sicuramente è saturo di proposte e ovviamente necessita sempre di nuovi stimoli.